Una serata all'insegna del buon gusto e dei prodotti tipici locali in una location da favola con tanto di esposizione e di auto e moto d'epoca. Gustiamo, il gruppo nato in seno a Confartigianato in Preseprato, presenta Ruote e Sapori, un percorso enogastronomico di eccellenza nella splendida cornice del Chiostro di San Domenico, dove per l'occasione, grazie alla collaborazione con il gruppo storico Bisenzia, verrà allestita anche un'esposizione di auto e moto d'epoca. L'appuntamento è per domani, giovedì 12 luglio, a partire dalle 19.30. I negozi di vicinato scendono in piazza, certamente non a reclamare o a protestare, ma a far presente, a far conoscere i propri prodotti, le proprie prelibatezze alla gente. Non voglio usare di modestia, peccato di modestia, ma ecco, noi per questo è il nostro incontro importante, perché lo sentiamo veramente, perché ci sentiamo di rappresentare il negozio del vicinato proprio di Prato in questa occasione, perché si fa tanto parlare di chilometro zero e tutte queste cose. Ecco, noi in pratica siamo nati col chilometro zero e noi lo facciamo da sempre, non ci sembra una cosa così esplosiva, come tutti questi mercati, queste grandi distribuzioni che fanno forza su questo chilometro zero. Noi, da quando siamo nati, il piccolo produttore locale, quando fa qualcosa, il vino, l'olio, le uova, la frutta e verdura, viene al piccolo negozio del vicinato a proporla per dopo riversarla sulla gente, ecco. E noi ci proponiamo proprio di far sentire queste prelibatezze alla gente in piazza. Giunta alla quarta edizione, la manifestazione è cresciuta nel corso degli anni, segnando sempre il tutto esaurito. Dieci commercianti presenti domani che proporranno le loro specialità enogastronomiche, dagli antipasti ai dolci, il tutto accompagnato da birre artigianali locali e vini toscani. Il biglietto d'ingresso, bevute incluse, è di 15 euro ed è acquistabile presso gli esercizi che hanno aderito alla manifestazione. Tutti gli anni facciamo degli accostamenti, vuoi il benessere, vuoi la spirata di moda. Quest'anno la moto e le auto perché sono delle eccellenze dell'Italia, ecco, e noi i negozi vicinati è un'eccellenza. Una manifestazione dunque per promuovere le eccellenze locali e per sottolineare ancora una volta il ruolo primario dei negozi di vicinato, come luogo non solo di vendita di prodotti ma anche di aggregazione e dinamismo della città. Questo periodo specialmente quando iniziano tutti questi mercatini, queste cosiddette sagre mettono abbastanza in difficoltà perché la gente giustamente gira e poi con poco dicono noi mangiamo, al di là del fatto di non so cosa mangiano, non voglio assolutamente entrare in polemica. Però ecco quello che chiediamo noi, certamente, specialmente anche a livello di pizzeria e ristorazione, fateci la stessa tasse che vengono pagate a queste feste. Fondamentale in questo è il supporto costante e quotidiano di Confartigianato e Imprese Prato. Noi quando siamo arrivati quattro anni fa il detto era che Confartigianato ci è andato a fare, l'artigianato è artigiano, voi non c'entrate niente come commercio. Ecco, vorrei sfatare questa cosa perché abbiamo trovato delle persone molto competenti, siamo tutelati a livello delle istituzioni e siamo seguiti passo per passo molto professionalmente da tutto il personale qui di Confartigianato. Abbiamo trovato veramente un'associazione che è a misura d'uomo, a misura di commercianti in questo caso.